Musica Buonasera a voi tutti. Ieri al centro vaccinale di Camucia a sei persone è stata somministrata una soluzione fisiologica anziché il vaccino. La ASL ha assicurato come la soluzione non sia assolutamente nociva ma una delle persone coinvolte nell'errore, un 31enne, ha scritto una lettera all'azienda sanitaria esprimendo sconcerto per quanto accaduto. Errori del genere sono inconcepibili. Queste le dure parole dell'uomo. Aggiornamento Covid sono 23 i nuovi positivi ad Arezzo e Provincia. Sei di questi nel capoluogo si registrano 32 guarigioni e purtroppo anche un decesso. Si tratta di un uomo di 61 anni che era ricoverato in terapia intensiva al San Donato. Ferrer Vannetti è il nuovo presidente di Arezzo, Fiere e Congressi. Finisce quindi l'era di Sandra Bianchi che resterà comunque in squadra come tecnico. Vannetti è stato nominato in CDA insieme a Ginetta Menchetti in quota Regione Toscana e ad Alessandra Iosef in quota Provincia Comune di Arezzo. Queste erano le nostre breaking news. Grazie per l'attenzione. Buona serata. Grazie per la visione.